Il presidente della Vitali S.p.A., azienda che opera nel settore dell'edilizia in Italia e in Europa, ha parlato del suo lavoro insieme al sindaco di Bergamo Gori, al presidente della provincia di Bergamo Gandolfi, al presidente di Confindustria Bergamo Recuperati e al rettore dell'Università di Bergamo Cavalieri e insieme anche all'editorialista Facchetti. Una tavola rotonda importante per parlare specialmente della cultura imprenditoriale in Italia e nel territorio bergamasco. Queste le parole del presidente della Vitali S.p.A., Massimo Vitali. Questo libro è frutto di un lavoro di due anni, i temi sono le sfide imprenditoriali. Parlo ai giovani e credo di riuscire a trasmettere a loro questa nostra passione per le sfide, per la ricerca dei migliori risultati, la sostenibilità, la governance. E tutte le sfide che rappresento in questo libro devono essere per loro una guida, una bussola per il loro futuro. Oggi un giovane, anche io a 20 anni, quando ho iniziato ero giovanissimo, ha evidentemente le idee da chiarirsi. Deve trovare una via e credo che con tutte queste sfide che ho raccontato nei 33 anni della mia carriera, e della mia famiglia, il giovane possa immedesimarsi e possa magari nascere una nuova impresa. Questo è l'auspicio.